Ciao amici, come state? Spero tutto bene! Oggi ritorniamo nella serie di Ice Cream, ma oggi siamo qua con delle grandi novità! Ebbene sì che Playerance hanno pubblicato due immagini, ma sono delle immagini molto importanti perché la prima riguarda Ice Cream 8 dove possiamo notare proprio alcune cose, alcuni dettagli molto molto particolari che sicuramente vi piaceranno. Ma la seconda immagine invece è importante perché vedremo tre nuovi personaggi che noi finora non abbiamo mai incontrato, chi saranno mai? Faranno parte della serie di Ice Cream, saranno personaggi di un'altra serie nuova che vedremo in futuro? Proviamo a scoprirlo insieme, ma prima di partire lasciate qui sotto tantissimi like, iscrivetevi al canale con la campanella attiva! Ma prima di partire volevo anche ringraziare Benedetto Dieghi per aver fatto la donazione al canale, ti ringrazio davvero tanto per il grande supporto! Adesso devi partire, cominciamo! Andiamo a vedere insieme queste due nuove immagini ufficiali! Io veramente sono emozionatissimo, non potete immaginare quante emozioni ho sapendo che molto presto giocheremo ad Ice Cream 8! Ma sono anche triste perché sarà pure il capitolo finale! Ma dai! Cioè, emozioni contrastanti! Vabbè, non voglio continuare a parlare, vediamo ste immagini, va! Senza perdere troppo tempo! E questa è la prima immagine, immagine numero uno, dove possiamo notare alcuni dettagli particolari. Innanzitutto va bene, possiamo vedere meglio le trappole, perché qui guardate, le possiamo proprio vedere più definite. L'altra volta ve l'ho fatta vedere, ma erano viste un po' piccoline, quindi non è che si notava più di tanto il dettaglio. Qui invece possiamo notarla meglio. Posso vedere qua il mini Rod che tiene in mano il cestino, che in realtà sarebbe una trappola bomba questa, quindi non è un cestino con un gelato dentro, però la forma è quella. Dentro ci sta il gelato rosa, che sarebbe quello con la pozione segreta, il gelato che ci fa diventare dei Chubby Boy. Quindi se lo trovate, mi raccomando, non mangiate mai quel gelato, se no diventerete dei Chubby Boy, come era diventato Rod su Ice Cream. Vabbè, quando era giovane, che aveva tipo 15 anni. Poi posso notare pure la trappola di Mike, che sarebbe la torta con la corona. Stavolta vediamo proprio meglio anche la torta in sé, come è fatta, posso proprio vedere i dettagli. C'è una torta al cioccolato, le candeline con scritto IS8, che sarebbe Ice Cream 8, e poi la corona di sopra. A me sta venendo una fama assurda, cioè vorrei mangiarla, sta torta. Se l'avessi qui davanti la mangerei, ma tanto sarebbe una trappola, quindi mi scoppierebbe in faccia, mi ritroverei tutta la faccia sporca di cioccolato. Ma dai! Quindi anche qua se la trovate, mi raccomando, non mangiatela, perché se no poi mi scoppierà qui davanti, quindi la lasciamo perdere. Poi qui possiamo notare meglio la trappola di Mike, che sarebbe tipo, non lo so, una cosa, un'anguilla. È un'anguilla in acqua, che però fa elettricità. Lo sappiamo bene, Mike sarebbe il genio del gruppo, quindi probabilmente lui è riuscito a creare una trappola, con un'anguilla che fa elettricità. Io sono veramente curioso di vedere come sarà sta trappola, vi giuro. Tutte le altre un po' me ne immagino, tipo questa qua con il mini rod scoppia. Poi c'è la trappola di Charlie, che c'è la torta che scoppia. Ma questa invece con l'anguilla, cosa farà? Cosa? Boh, non lo so. Ci sarà un tuono, un qualcosa. Vedremo un rod che viene folgorato. Lo scopriremo molto molto presto. E infine potete notare meglio la trappola di Liz, che ha pure sta faccia da... Non lo so, sembra tipo un criceto. Cioè, è la faccetta. Abbiamo la trappola con la faccia, che tecnicamente sarebbe tipo... un balloncino sopra sto contenitore, con del gas dentro. Cioè, la trappola di Liz tecnicamente sarebbe un profumo che scoppia. Quei cosa abbiamo? Abbiamo, presumo qualcosa che però non sia profumato, tipo un contenitore che puzza, che scoppia. Una puzza assurda farà sta trappola. E meno male che gli odori del gioco non si sentono. Solo ogni volta che sta trappola scoppia, sentiremo tipo una puzza uscire fuori dai nostri telefoni. Già comunque la puzza si sente quando gioco i cloni brutti. Non voglio trovarli anche quando gioco questi giochi, eh. Grazie, per favore. Ma adesso vediamo pure gli altri dettagli che non abbiamo ancora notato. Ad esempio, guardate qua il logo. Finalmente abbiamo il logo finale, però da qua non si nota più di tanto. Aspettate. Provo a mettere meglio. Ok. Qua è inquadrato molto meglio. Potete notare, Escrime 8 Final Chapter. Hanno aggiunto appunto qua la scritta Final Chapter, che prima non c'era. Prima c'era soltanto Escrime con l'8 e basta. Adesso invece hanno aggiunto tipo il riquadro, che ho scritto Final Chapter, che fa capire appunto che questo sarà un capitolo finale. Ma che bello. E infine guardiamo qua il lato armi. Hanno aggiunto delle nuove armi. Quindi Escrime 8 sarà pure un gioco dove oltre ad avere tante trappole, avremo pure tante armi a disposizione. Così diventa Call of Duty. Abbiamo Escrime a Call of Duty con le armi. Vabbè, Lasciamo perdere ovviamente, si scherza, però vediamo meglio qua. Allora, alcune di queste in realtà già le conosciamo. Innanzitutto la pistola microonde tornerà ufficialmente nell'ottavo capitolo. Quindi può darsi che forse torneremo all'interno della centrale elettrica. Perché lì l'abbiamo lasciata, quell'arma sta lì dentro, quindi per forza di cose torneremo nella centrale. Ma magari su questo farò un video dedicato, proprio sulle zone che potremmo andare a scoprire all'interno dell'ottavo capitolo. Poi abbiamo qua la cosa, l'electrogram al plasma, non so più come si chiama, comunque sarebbe l'electrogram però trasformata su Screenset con le cose al plasma. Torneremo anche questa qua nell'ottavo capitolo e sinceramente a me non piace, è l'unica arma che non è piaciuta. Perché non è possibile, quell'electrogram era più bella, era bellissima l'electrogram. Perché mai che è andata a rovinarla così? Che quando lancia una munizione neanche tira a dritto, che poi cade perché c'è il peso. Sono pure pesanti queste munizioni che poi cadono sotto. come una fionda. Ma neanche la fionda tira meglio, funzionava meglio la fionda. Ma poi abbiamo qui due nuove armi. La rod gun, che era uno dei premi della pre-registrazione, che l'avremo tutti quanti. Mi raccomando, se non siete pre-registrati ad Esprimotto, andatelo a fare, perché così anche voi avrete la rod gun. E se invece non fate la pre-registrazione, non avrete quest'arma. Quindi io vi consiglio di farlo. Vabbè, si potrà pure ottenere in altro modo, però così ci avete già appena scaricato il gioco, no? Meglio ancora. E poi qui sotto, guardate cosa abbiamo. Abbiamo uno shotgun. Cioè questo non l'abbiamo ancora notato, proprio nel mondo di Ice Cream. Prima volta che vediamo uno shotgun. Un fucile, cos'è? Dobbiamo andare a caccia. Questo è un fucile da caccia. Ah, vabbè. Lo ritroveremo all'interno, proprio del mondo di Ice Cream. Non vedo l'ora appunto di provarlo. Sembra lo shotgun di Mr. Meat, sapete? Quello del primo capitolo. Non lo so. Forse si potrebbe provare a fare qualche teoria. Vabbè, non è questo il video detto per fare le teorie dello shotgun di Mr. Meat oppure no. Quindi direi di passare adesso all'altra immagine, che sarebbe questa. Immagine del ringraziamento. I Keplerians hanno postato questa immagine per ringraziare... No, che cosa? Per ringraziare... Per augurare a tutti quanti buon ringraziamento. Ma qui in Italia non si festeggia, quindi vabbè, grazie per gli auguri del ringraziamento, però niente. Qua non lo festeggiamo. Vediamo meglio questa immagine. Possiamo notare appunto che ci sono i vari villain dei Keplerians. Ad esempio c'è King Richard. Mr. Meat, Rod, Sister Madeline e la strega di Witchcry. Ma... Ah sì, poi in centro ci sta un povero Charlie. Ma poverino! Ma dai! Che ti vogliono mangiare Charlie? Però andate qui sotto, guardate qua cosa abbiamo. Abbiamo tre nuovi personaggi. Ringrazio comunque Burrito sul tubo, perché è stato proprio lui che mi ha fatto notare la presenza di questi tre personaggi, quindi grazie mille per questa informazione. Cioè, no, seriamente, chi sono questi qua? Chi li ha mai visti? Cioè, qui sopra vediamo i villain che abbiamo visto per il momento dei Keplerians. Di sotto troviamo quindi altri tre nuovi villain. Ma vediamo insieme proprio qua come sono fatti. Innanzitutto, partiamo da quelli laterali, quindi quello a destra e quello a sinistra, perché sono i più simili. Hanno entrambi un cappello. Che è un cappello? Forse, vabbè, forse è da decorazione, perché vedo che anche qua, tipo Rod ha lo stesso cappello, quindi può darsi, no? Si ha lo stesso cappello che ha Rod qua. ma la testa sembra appunto quella della maschera di Rod. Guardate proprio la parte superiore, è piatta. Cioè, mentre Rod qua comunque la maschera tende ad avere anche una curvatura alla parte di sopra, ecco, quella di questo personaggio tende a schiacciarsi. E se fosse un nuovo personaggio che troveremo nell'ottavo capitolo, oppure qualche nuovo villain di qualche nuova serie che verrà presentata molto presto, non vedo l'ora. Anche qua l'altro personaggio, questa qui di lato, possiamo notare che ha la testa un po' più magrolina e il cappello un po' più lungo, quindi forse abbiamo due personaggi strani che da dietro sembrano collegati con il mondo di Ice Cream, perché sembra tipo la maschera da Rod da dietro, ma con la testa schiacciata. Non è neanche quella del mini Rod, perché anche i mini Rod non è che ce l'hanno schiacciata in quel modo. Quindi, restate sintonizzati. Fatemi sapere in questi commenti la vostra teoria riguardo a questi due personaggi, ma la cosa anche più strana è quest'altro personaggio centrale. Cioè, guardate qua, ci sta qualcuno con la testa un po' più larga, con un cappello più largo. Chi saranno mai? No, no, seriamente, qui abbiamo tre nuovi personaggi che per il momento non abbiamo mai incontrato in nessuno dei giochi che per il momento abbiamo visto di Keplerians. Cioè, non sono né nella serie di Ice Cream, né nella serie di Vol'Nan, né nella serie di Mr. Meat, né nella serie di Witchcry e neanche quella di Angry King. Non lo so. Quindi, sono veramente incuriosito da sta roba. Ma soprattutto piacerebbe sapere la vostra teoria. Ricordatevi che l'anno scorso i Keplerians avevano, tipo, presentato due sagome di due personaggi che non abbiamo mai incontrato. Presumo che sia di un gioco che sia stato annullato in favore di Angry King. E forse era meglio per i Keplerians continuare quell'altro gioco anziché fare Angry King vedendo poi come è successo, come è successo quel gioco, no? Però, abbiamo scritto i nuovi personaggi, quindi tenetevi pronti perché probabilmente o li incontreremo su Ice Cream 8, o li vedremo in un possibile Mr. Meat 3, oppure saranno personaggi di qualche nuova serie in arrivo. Beh, dopo tutto, dopo Ice Cream 8, e Keplerians devono pure fare qualche nuova serie. E se no, come campano? Cioè, la serie di Vol'Nan che è c'è da anni sta andando avanti però su PC. Su mobile invece o vanno avanti con Mr. Meat o con Witchcry oppure forse è arrivato finalmente il momento di cominciare con qualcosa di nuovo, con una nuova avventura, con una nuova storia segreta. Quindi, vabbè, io direi di fare una cosa, direi che per il momento posso venire qua al video. Fatemi sapere in questi altri commenti cosa ne pensate. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, spalliciate, che ci vedete. Iscrivete al canale con la campanella attiva. Nel prossimo video, e come sempre, che con una giornata, prezionate, buon panino a tutti.